Ciao a tutti amici e bentornati in un nuovo video. Oggi 3 febbraio è l'ottava anniversario della giornata di calzini spaiati. Si tratta di un'iniziativa per sensibilizzare su autismo e altre diversità, per insegnare a tutti e ricordare a chi molto spesso si scorda che non si è migliori ad altri. Questa giornata è nata grazie a dei bambini della scuola primaria di Aquileia. I calzini spaiati ci danno la possibilità di indossare calze di diverso colore, lunghezza e dimensione, di far capire che non cambia quello che sono sempre e comunque dei calzini. Perché nonostante tutto, non dobbiamo essere tutti uguali, dobbiamo volerci bene e accettarci in ogni modo e rispettarci sempre. Possiamo aderire tutti a questa giornata indossando dei calzini spaiati simpatici di diverso colore per dimostrare che non per quello che siamo delle persone diverse dagli altri. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e condividete questo video. E mi raccomando, aderite alla giornata dei calzini spaiati. Ciao!